A cavallo fronte al Novecento Weber capisce e dice che qui ce ne sono tre tipi di air shaft, legittime air shaft, potere legittimo, ovvero sì, autorità, secondo l'accezione moderna di autorità, potere legittimo, sarebbe come dire che ci sono tre modi dell'autorità. E allora la vera domanda sarebbe come tre, ce n'è uno solo, cioè il potere razionale, legittimo perché razionale, quello dello Stato moderno nella sua forma teorica astratta, cioè i cittadini sono autores attraverso il patto, trasferiscono la propria volontà al sovrano che enama la legge in modo perfettamente trasparente. La cosa buffa che questo lo prende in considerazione come una derivata, Weber dice che di autorità ce ne sono tre tipi, cioè quella dell'eterno passato, delle società tradizionali, la sapeva lunga, cioè l'autoritas di Roma, ma anche il potere ierocratico ovunque si manifesti, nell'Egitto dei Faraoni, nella Cina imperiale, il potere ierocratico, di lunga durata. E poi c'è il potere razionale, quello modello, sì, perfetto, solo invece di dire quello dello Stato liberale, dice già il tipo di potere che in realtà sconfigge e distrugge lo Stato liberale. Cioè dice, per fare l'esempio di potere razionale, il padre è un potere procedurale, cioè delle burocratie. Se volete il potere razionale moderno, cosa credete che sia il patto di Hobs, ma va là. Non mi fate ridere. Il cristallo purissimo in cui si vede il trasferimento di potere dal soggetto che ce l'ha, per natura, allo Stato. Ah, quello lì è la favola, la realtà. Abbiamo potere razionale, per poco che lo abbiamo, ma sono delle burocratie, cioè della gente che ti comanda in modo perfettamente razionale. Secondo, procedure. E allora, a fianco di questo potere razionale, che è il potere razionale dello Stato, c'è un analogo potere razionale che è quello del mercato. L'impresa funziona, dice Vede, allo stesso modo. Il razionalismo occidentale del sottorno moderna produce tanto lo Stato quanto il mercato, che funziona allo stesso modo. Solo che quando dice lo Stato, ha già in mente una legittimazione dello Stato, non come momento originario, cioè il momento in cui lo Stato si scopre essere il prodotto dell'autorità di ciascun singolo, il momento in cui lo Stato svela la propria origine e dice, in me, Stato, non c'è niente di misterioso, non c'è niente di irrazionale, io sono il frutto della vostra libera volontà razionale. Non dice questo. Parlo del potere razionale di uno Stato che è già nato, tutti si sono dimenticati come e perché, e che si limita a funzionare razionalmente, cioè attraverso la burocrazia. La ragione non mette al mondo lo Stato, la ragione lo fa a funzionare. E terzo, perché ci vuole un po' di movimento, terza autorità, non questa, quella di lungo periodo della storia, non la calcolabilità razionale delle azioni umane dall'alto, qualcuno che ti spiega cosa devi fare, quando, come, perché, il mondo kafkiano in realtà. Il terzo è qualcuno che fa saltare il tavolo, il potere carismatico, l'autorità carismatica, che in realtà è illegittima, per definizione. Lui la tratta come potere legittimo, ma è un potere che afferma la propria legittimità. Il modello tipico del potere carismatico è Gesù. Sta scritto, ma io vi dico. Finora avete fatto così e io vi dico, beh, adesso facciamo al contrario. Il potere illegittimo che pretende una nuova, pretende di essere una nuova legittimità. rapporti con cielo-terra non c'entrino più. Naturalmente Cristo in questo contesto non è percepito come la seconda persona della genetà, ma come personaggio storico che si è comportato in modo carismatico. Cioè l'autorità scappa fuori da tutte le parti. Gli esseri umani, in nessuno di questi tre modelli di autorità sono governati da se stessi. Il concetto modello di autorità, uguale potere legittimo, significa, in questo esempio paradossale che vi ho fatto del ladro che arresta se stesso, vuol dire che gli uomini sono governati da loro stessi. Fine dell'autorità, ovvero trasformazione dell'autorità in potere legittimo, che è la stessa cosa, vuol dire che nulla sfugge alla ragione umana. Anche quando ci governiamo, siamo noi che governiamo sempre noi stessi, attraverso una struttura che si chiama Stato, ma che abbiamo fatto noi. Benissimo. In Leber, l'autorità, non vuol dire mai questa cosa qui. In tutti e tre questi esempi, in tutti e tre questi modelli, questi tipi di potere, l'uomini, in nessuno di questi tre, l'uomini si governano da soli. Nel primo caso sono governati da una casta di sacerdoti, nel secondo caso sono governati da una casta di burocrati o di manager. E nel terzo, è nel terzo da un tizio che arriva lì e dice, fate come vi dico io. Perché io ho il carisma, cioè lo straordinario dono di grazia. Cioè perché io mi faccio obbedire, Dio sa perché, quando apro bocca, invece di... poi alla fine lo lo crocifichono anche naturalmente. Ma prima gli obbediscono. Perché? È magnetico. Ma certamente non è un atto di libera razionalità quello di aderire a quel messaggio. Ripeto, qui la figura di Cristo non ha contenuti religiosi, è la figura di un capo carismatico. Dunque l'autorità salta fuori in forme diverse in tutti i modi. In parallelo le scienze umane scoprono che gli esseri umani non possono essere liberi. E che il modello di soggetto modello, perfettamente razionale, padrone di sé, che conosce se stesso e che è in grado di calcolare il fatto che egli deve cedere la propria originaria autoritas per generare lo Stato, questo qui non è mai esistito. Non esiste. Gli esseri umani funzionano in tutt'altro modo. Hanno bisogno di obbedire. Proprio non è un bisogno transitorio, non è una debolezza dell'anima che la luce della ragione rischiara e fa scompagnia. La scommessa moderna è questa. La ragione moderna è la luce. L'obbedienza sono le tempre. L'illuminismo spazza via le tempre. Il liberalismo spazza via di tempo. Trionfa la ragione. Tutta la simbologia massonica è questa. Non è inutile che te lo spieghi, lo sapete. Ecco, alla fine del secolo, prendiamoli uno a caso, Freud. Gli esseri umani sono strutturati psichicamente in modo tale da dovere necessariamente obbedire. Certo, non a un'autorità esteriore, certo, come no? Molto peggio. All'autorità esteriore è interiorizzata. Prima l'ammazzano e poi gli obbediscono perché è diventato un fantasma della ragione, è diventato il superiore. Senza obbedienza. La struttura dell'obbedienza fa parte della struttura dell'essere umano. e non c'è ragione che triga. Libertà razionale senza obbedienza non esiste. L'obbedienza non è un'opacità che la ragione rischiare e distrugge. L'obbedienza fa parte della nostra natura.